Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Steve88, che mi chiede di parlare del film del 1965 di Massimo Puppillo, Cinque tombe promedio con Walter Brandi, la grandissima Barbara Steele e altri attori, insomma, per una pellicola in bianco e nero, un gotico, scritto dalla coppia Migliorini Natale, che sfrutta appunto il successo del gotico italiano all'estero, e infatti è uno dei film più famosi in America, più famosi in America del nostro gotico, pur non essendo secondo me uno dei più lucidi, ma ha delle cose abbastanza interessanti. Partendo come un giallo testamentario, perché alla fine la trama è più o meno questa, il notaio Novak riceve una lettera da questo dottor Auf perché sta male volere fare il proprio testamento, il nostro arriva e quando arriva lì scopre che in realtà è morto da un anno. La moglie del defunto, appunto la grande Barbara Steele che interpreta tal Clio, è convinta che sia uno scorso, uno scherzo. Invece per la figlia Corinne c'è qualcosa sotto, Corinne interpretata da Mirella Meravidi, per un film insomma che parte appunto come un giallo classico, dove sicuramente la Brandi non è che faccia una gran figura, però Barbara Steele è veramente fenomenale, anche dove litigò subito con il regista, che la mise subito a diritto a quanto pare sul set, facendoci una discussione enorme davanti a tutti. Ma la Steele comunque si sa che era un po' facciamo un po' le bizze, ma in questo film è fantastica, la porta avanti praticamente la sola della sua apparizione, chiamiamola così, quando esce dalla vasca è assolutamente unica. C'è un piccolo scheggettino di erotismo dell'epoca, appunto una schiena nuda o qualcosa del genere, attraverso una soluzione abbastanza violenta, dove anche se gli omicidi vanno un po' messi fuori campo, però per l'epoca era abbastanza crudo e ripeto, la parte iniziale col giallo così è molto più sviluppata, secondo me poi quando si butta sul, diciamo, lo zombesco dell'epoca, l'orrorifico dell'epoca, il tutto comincia un po' a crollare, il castello di carte viene giù, però ripeto, sono film di un'epoca esportabili e fatti anche a ripetizione uno dietro l'altro, sicuramente è uno dei migliori film di Pupillo, anche perché comunque nel suo essere abbastanza in alcuni momenti sciatto, alcuni momenti sembra proprio tirato via, però c'è una grande forza nella fotografia, non a caso del grandissimo Carlo Di Palma che fa un lavoro comunque su un bianco e nero straordinario, Barbara Steele ripeto è affascinante e che crudele quanto deve essere, è un film che quindi, ripeto, parte come un thriller, si vuol muovere su quello, poi comincia a venire fuori tutto l'occultismo, viene fuori un altro tipo di cose, chi si vendica da lato home, insomma cercate di guardarlo se potete, perché comunque è un piccolo cult della nostra filmografia anni 60, ripeto, gotica, sicuramente non siamo a livelli dei migliori film secondo me, però è sempre un film che io amo darci una visione perché a me mi piace tutto questo tipo di cinema di genere, ci sono poco versi, ci sono cresciuto e in più trovo che ci sono sempre condizioni divertenti e soprattutto dei momenti in cui questo cinema ha sempre degli scatti, che sia la scena delle memorie incise col dittafono che è veramente bomba, tutta la parte della pioggia finale è veramente bellissima, e nonostante i cliché dell'epoca, tipo Luciano Pigozzi a fare carte, questo personaggio insomma, che sembra un po' una parodia quasi dei personaggi in un certo senso gotici, che servo chiaramente di tutti, e poi insomma c'è anche Riccardo Garrone a fare José Morgan, ma alla fine il film insomma vive di Barbara Stilville e di qualche sequenza, quella vive di una prima parte ottima, anche se l'ambientazione ogni tanto sembra sfuggire di male al regista, però ripeto, la fotografia è bomba, la musica di Aldo Piga è di buon livello, e alla fine ci sono due o tre scene che rimangono, il resto è semplicemente storia, storia che comunque io consiglio a tutti di vedere, perché comunque sono film che sono proprio un atto d'amore verso il genere, nonostante Pupillo lo amasse assolutamente questo film, ogni tanto la regia si è un po' statica, ogni tanto ci vorreva qualcosa di più per dare uno scossone, ma ripeto, due o tre sequenze ci sono, e nel complesso comunque è un film sufficiente, che si guarda abbastanza volentieri, e che ripeto, è uno spaccato d'epoca che io amo sempre vedere. Il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, e questo film di Pupillo del 1965, ripeto, è un film che tutto sommato si lascia guardare, con questa sua voglia di mescolare il giallo, il horror e il paranormale, tutto forse in un calderone di una sceneggiatura, che va un po' di qua e un po' di là senza sapere domandare, ma che comunque visivamente riesce ad affascinare. a Giro, a Giro, Grazie a tutti.